Da poche ore ormai ufficiale, si tornerà al voto per le amministrative in Abruzzo il 10 febbraio, una data che non piace al centro-destra. Febbo, siete pronti a ricorrere anche al TAR? Una data illogica dal punto di vista giuridico, credo che abbiamo dimostrato che le date per votare erano altre, ma io credo anche dal punto di vista assettamente tecnico. Votare il 10 febbraio significa presentare le liste, entro il 10 gennaio significa fare una campagna elettorale nei famosi giorni della merla, cioè nei giorni più freddi dell'anno, quando in una regione ci sono oltre 100 comuni che superano i millimetri. Io credo che questa sia un'azione predeterminata, c'è qualcuno che vuole per forza spostare la data, sperando in qualcosa che possa accadere e che però non ha giustificazione perché penalizzare in questa maniera gli abruzzesi veramente non c'è alcun ritegno. Io credo che anche il percorso seguito per arrivare a questa data, noi venerdì scorso abbiamo occupato simbolicamente la sala consigliare per essere ricevuti e parlare con il Presidente facendo funzione Lolli di quando si sarebbe saputa la data. Quando abbiamo avuto l'incontro, venerdì pomeriggio, ci siamo incontrati, il Presidente Lolli ci ha detto e ci ha prospettato un percorso che bisognava seguire tra lui, Presidente del Consiglio, Presidente della Corte d'Appello, che forse si capiva che si arrivava a fine settimana, questa settimana, per avere questa data. Improvvisamente, passa il sabato, passa la domenica, ieri lunedì arriva questo decreto, veramente credo che ci sia da dubitare sul percorso fatto, credo che sia stato tutto preordinato, d'altronde in Regione tra i consiglieri di maggioranza da sempre girava questa voce, si voterà fine febbraio-marzo, hanno anticipato di una settimana. Ci potrebbe anche essere il rischio di posticipare di qualche mese le elezioni regionali e far sì che si possa votare nell'eleccio on day? Guardi, veramente signifirebbe calpestare la Costituzione e i diritti. L'unica cosa certa è che c'è che Forza Italia, giovedì pomeriggio, si riunirà con i massimi vertici, con il segretario coordinatore regionale Pagano, l'On. Martino, con i nostri legali che già stanno lavorando su esaminare la possibilità di fare ricorso. Credo che ci sarà un ricorso al TAR e noi ci auguriamo che i tempi vengano abbreviati.